salve salve vorrei prenotare un prelievo mi dà la sua carta socio o il codice socio ah no non ce l'ho con me per prenotare un prelievo ricordati sempre di avere con te tutti i dati del titolare del libretto la carta socio o il codice a 13 cifre come cognome data e luogo di nascita un aiuto per chi teme di dimenticare la carta socio a casa se ti registri sul sito coppaleanza 3.0 avrai sempre una coppia virtuale della carta socio nella tua area riservata del sito anche su smartphone comodo no